L'invito è partito. Abbiamo fatto una riunione l'altra sera, è importante, abbiamo deciso un piano di azione molto vasto che annunceremo ovviamente nelle prossime ore. Quindi stiamo predisponendo una serie di atti che vanno in più direzioni, dialogo con la città per comunicare a tutti i nostri concittadini qual è il nostro piano, partirà l'invito per il governo italiano e per il governo regionale, mettiamo in campo un'altra serie di azioni importanti anche presso Bagnoli. Quindi da qui al 9 marzo una serie di azioni significative a dimostrazione che noi siamo pronti a partire subito con i poteri ordinari ovviamente.